La protezione civile e la regione campagna avevano annunciato per la giornata di oggi maltempo, con temporali piogge e raffiche di vento che puntualmente si sono abbattute sulla provincia di Avellino, provocando non pochi disagi. Alberi e rami caduti in città, ma anche smottamenti e frane in altre zone dell'Irpinia. La sala operativa e il comando dei vigili del fuoco di Avellino è stata infatti oggetto di decine di telefonate per interventi che hanno riguardato soprattutto allagamenti e caduta di rami ed alberi sulla sede stradale. Situazione critica sull'alto piano dell'Aceno per alcune slavine e piccole frane che hanno interessato alcuni alberghi e abitazioni del posto. In Alta Irpinia, a causa di uno smottamento provocato alle forti precipitazioni, è bloccata la SP-143 tra Bagnoli Irpino e Acerno, dove sono ancora in corso le operazioni per il ripristino della circolazione. Fortunatamente non si registrano feriti sul posto i carabinieri della compagnia di Montella. Come detto, molte chiamate ai vigili del fuoco anche per la città capoluogo, interessata da un forte nubifraggio e dove stanno lavorando le squadre e la sede centrale. L'allerta, annunciata alla protezione civile, continuerà fino alle 6 di domani mattina.